Allora Meg, goditi il tuo addio al nubilato, io esco, non voglio assistere alle follie in cui bilancerete appena rimaste sole, ma ricordatevi che questa è una casa rispettabile e tale deve restare, e se bevete troppo il secchio per il vetro è sotto il lavandino della cucina, ciao divertitevi Allora ragazzi, che cosa facciamo? Uffa, questa non sembra neanche una festa Ehi, cos'è tutto questo bacano? Abbiamo ricevuto delle lamentele dal vicino, quindi sarà meglio che io vi porti tutte in centrale Allora, chi di voi è la fortunata sposa? Come ti chiami tesoro? Ma tu sai come mi chiami? Guarda che io sono il cattivo penente, state attente, potrei anche avere una pericolosa arma nascosta Ehi, e l'altro